segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora questa è la stazione termine nel racconto di danielo litrani che è stato stato lì parecchie ore di notte qual è il punto che questa cosa tra l'altro si ha avuto un momento di grande esplosione dopo che il 27 di dicembre una turista israeliana è stata gravemente pugnalata da un tunisino in stazione un polacco in stazione un polacco come è possibile che la stazione di roma la capitale d'italia a 700 metri al suo ministero continua a essere così mi dà 30 secondi in più mi fa molto piacere questo servizio perché ha dato la rappresentazione plastica degli interventi di polizia quindi un controllo di sicurezza che c'è ma che non è sufficiente rispetto a fenomeni di emarginazione degrado che sono esattamente legate a quello che dicevamo prima arrivi incontrollati molti di io sono stato prefetto di roma molte di quelle presenze facciamo degli accertamenti d'accordo anche con il comune di roma sono relative a persone che sono arrivate attraverso gli sbarchi incontrollati e finiscono in una in un gorgo senza fine in qualche cosa che poi di cui nessuno si interessa più e finiscono in quelle condizioni di emarginazione che sono ingestibili molti casi anche di problemi di carattere psichiatrico di problemi di alcol e quant'altro che rendono difficile tutto per quanto riguarda quell'episodio è stata qualcosa di diverso gravissimo ma diverso perché è stato un episodio anche quello in qualche modo del tutto isolato commesso da un cittadino europeo un polacco che vive una condizione ecco di vita molto così da sbandato è stato un episodio che ha delle connotazioni diciamo per fortuna circoscritti allo stesso molto gravi segnalo però perché da ministro dell'interno devo lanciare anche dei messaggi rassicuranti è stato esemplificativo del fatto la gente molto spesso ricollega questi episodi alla capacità e la necessità di prevenirli laddove non si riesce per evidenti motivi di assoluta imprevedibilità e di insidia che ci sono in questi episodi nel giro di poche ore è stato rintracciato e quindi assicurato alla giustizia bisogna fare qualcosa però cosa pensate di poter fare su questo come per esempio d'amato visto che ha chiesto il candidato per centosinistra la presidenza della regione poteri speciali per la sicurezza a Roma una buona idea io credo che amato che si è esercitato come assessore alla sanità non sia molto addentro ai temi della sicurezza se parla di poteri speciali alla sicurezza vuol dire che non conosce bene i temi della sicurezza quindi gli suggerisco almeno finché assessore alla sanità di dedicarsi alla sanità e quindi non parlare di poteri speciali però detto questo questo qui si fa esattamente con molta fatica con molta come dire azione prolungata nel tempo limitando le cause di questa immarginazione di questo degrado c'è pochi uomini ma fatica no gli uomini sono adeguati certo i fenomeni sono tanti e spesso si scarica sul sistema di polizia l'aspirazione alla risoluzione di problemi anche che non sono strettamente del sistema di polizia ecco a proposito di fenomeno